Torna dopo due anni di stop la notturna città di Chieti, la gara podistica nazionale promossa dall'associazione sportiva dilettantistica US Acli Marathon Chieti. Questa ventiduesima edizione sarà intitolata al compianto Sandro Angeloni, medico molto amato in città. La gara podistica si articolerà su lunghezze di 500 metri, 1 chilometro, 1 chilometro e mezzo, 3 chilometri e 9 chilometri e 6. Quella non competitiva, nota anche come la passeggiata della salute, sarà invece aperta a tutti di 2 chilometri e 6. Quali sono le novità di quest'anno per questa ventiduesima edizione che riparte dopo due anni di stop per la pandemia? Allora, sono piccole novità, però ci sono. Quindi la partenza non sarà più da Piazza San Giustino per il lavoro in corso, saranno alla Villa Comunale. Tutto il ritrovo dei bambini, ragazzi è competitiva e passeggiata, partirà tutto dalla Villa, si snoderà per il centro storico di Chieti. Quindi sarà eliminato il passaggio in Piazza San Giustino, accorciando brevemente il percorso per cui i giri da 3 passeranno a 4, per un totale di 9 chilometri e 600 metri. L'associazione Un Tratturo per la Vita dal 2009 ha sostenuto il centro di radioterapia oncologica dell'ospedale di Chieti per attività di ricerca e altro e in questa occasione ha legato la propria presenza alla notturna di Chieti, proprio nell'anno in cui il reparto di radioterapia oncologica compie 50 anni. Anche i rapporti con il territorio e quindi i sodalizi che possono essere come questo con l'Agri da parte della nostra associazione Il Tratturo è una strada per la vita, sono fondamentali proprio per veicolare queste belle notizie perché anche le belle notizie vanno comunicate. Abbiamo dato vita insieme al tessuto associativo ad un calendario ricco di eventi sportivi in questi mesi e soprattutto di eventi sportivi che si svolgessero nelle strade della nostra città perché lo sport è ripresa, perché lo sport è il miglior veicolo di aggregazione sociale e perché davvero ce n'era grande bisogno. E devo dire che insieme a Perrucci, insieme all'organizzazione abbiamo dato vita a un percorso molto bello e molto caratterizzante, insomma veramente di scoperta delle bellezze della nostra città. Tanti sono i partecipanti, circa 300, ma il numero sta aumentando in maniera progressiva, ma ancora di più una risposta ce la aspettiamo proprio per quello che è l'indotto. Noi come amministrazione crediamo fermamente nel concetto di marketing sportivo, lo stiamo rafforzando ed insieme al nostro sindaco procediamo in questa direzione.